La protezione civile ha emesso un'allerta gialla per rischio di temporali per venerdì in due regioni, esattamente per Piemonte e Molise. Correnti umide saranno registrate e porteranno instabilità sulle regioni dell'Ordio, dove non mancheranno acquazzoni e temporali. Le temperature sono ancora in linea con le medie del periodo, ma in rialzo nel secondo weekend di luglio sono previste addirittura picchi di oltre 40 gradi sulle regioni meridionali. Per quanto riguarda la durata, l'incertezza è elevata, ma probabilmente queste temperature ci accompagneranno senza problemi, ovviamente mettendo al sicuro anche la nostra salute, almeno fino alla metà di luglio.